Quando ho iniziato a giocare io, più che altro era un divertimento, per noi il gioco era un divertimento, via. Quando ho iniziato a giocare io, non è come adesso che ci sono gli allenamenti mirati, più che altro era un divertimento, per noi il gioco era un divertimento, via. Eravamo talmente abituati a vedere i nostri genitori che giocavano al San, allora era una cosa centrata nel San, ci piaceva proprio, e ci piace tuttora adesso, solo che non ci voglio giocare, via, per diversi motivi. Comunque, allenamento, noi troviamo un attimo di tempo, ci troviamo tutti o qua sotto nei prati a giocare, e allora facevamo questi allenamenti, solo che giocavamo soprattutto per allenarci per il campo, via. Non ci allenavamo a pallettare e a tirare, via. Ci allenavamo quando magari la domenica, prima di iniziare il campionato, allora iniziavamo poi magari a tirare e a pallettare, però è un allenamento completamente diverso rispetto a quello che c'è adesso, via. E quando iniziava poi sto, iniziavo poi a avvicinarmi a che iniziava questo campionato qua così, l'emozione poi era tantissima, io perché essendo anche giovanissimo, un'emozione di giocare a San, e poi allora lì così, dovevi andare anche, preparavi il campo, dovevi preparare tutti, preparare le vertiche, andare, e lì quando andavi nei boschi a tagliare queste piante qua, sentivi l'odore di sto larice, tagliavi questi larici, questi pini qua, era una sensazione bellissima, perché poi arrivavi la domenica, posizionavi la pertica per il pomeriggio che iniziavi a giocare, e ti rimandavo tutte stanche le mani sporche di Staresina, che non andava via, però era una sensazione bellissima, era bellissimo, puoi pensare di giocare il pomeriggio con i tuoi compagni, e con le squadre, che diciamo sono avversari, però erano tra amici via sempre, comunque è bellissimo via. Praticamente abbiamo, noi già un po' di tempo, quando andavamo a scuola, tornavamo indietro, con il bumbino abbiamo addocchiato un albero, il tuo è amareso, che sarebbe stato adatto per fare bastoni, sembrava una bella pianta, no? Allora, però ho un po' di paura, perché il proprietario non era proprio d'accordo, non è che non era d'accordo, magari se lo chiedevamo sicuramente ci manca l'autorizzazione, però quando sei un po' di paura, hai anche paura di chiedere queste cose, allora abbiamo avuto la brillante idea, siamo arrivati su quel pomeriggio, abbiamo mangiato un boccone, poi siamo rimasti d'accordo, abbiamo detto, boh, ci troviamo, scendiamo giù, ci siamo scesi giù con una sega e un falcetto, ho passato giù tutto in mezzo ai boschi, giù per il ruscello, perché non ci vedesse, non faccio vedere della gente, no? Allora poi abbiamo tagliato questa pianta, abbiamo portato su, è anche tribunato portarla su, perché abbiamo arrivato fino a quella resa, c'è un pezzettino, e poi appena tagliata verde, era pesante, abbiamo portato su, con poca esperienza, noi siamo andati in falegnameria, abbiamo preso i cugni, la mazza, le abbiamo provato a spaccare, e ora il nostro legno si è andato tutto spaccato male, perché era gelato, e noi con poca esperienza non abbiamo pensato che questo pezzo di legno poteva essere gelato, e comunque abbiamo fatto una giornata così alternativa senza risolvere niente, però anche lì era lo spirito del gioco, di arrangiarci, era una bella esperienza, una bella emozione.